Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, siamo qua oggi per l'ASL Bucket Challenge dopo essere stato nominato da Palaz, quindi siamo qui oggi, prima dico i nominati, poi parlo tutto e via. Allora, nomino prima quelli di Facebook, i miei amici Stefano, Marco, Enrico, Vincenzo e Alessio, e poi i miei amici del Sud, tra cui Paolo, Daniele, Tamara, Auri e Angelo, questi sono i nominati. Poi, di YouTube nomino Dub Channel, Bella FIFA, Orgasmix e Oaxel, quindi sono questi i miei quattro nominati. Poi, un'altra cosa ragazzi, volevo dire che questa è la ricerca per la SLA, quindi donate se avete l'opportunità di donare. Io donerò 10 dollari, che in euro sarebbero 7-8 euro, quindi non è neanche tanto, ma è un piccolo aiuto per questa ricerca. Adesso nulla, adesso mio fratello mi bagnerà per fare questa cosa qua, quindi secchio in testa, secchio in acqua. E basta! Adesso ho visto che c'ho anche il mio fratello qua, tocca a lui bagnarsi madonna non riesco a muovermi forse mi rappacciono adesso anche lui ragazzi farà la nomination e io lo bagnerò e dirà i suoi 4 nominati di facebook di youtube bella ragazzi come tutti saprete mi avrete già visto qualche video di tatino i miei nominati sono Audi Italia, Milan e Tim Cook della Apple è freddissimo quindi se avete l'opportunità ragazzi donate, donate, donate lasciate un like che è bella so io fanno so io fanno so io fanno Grazie a tutti.